Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa di fine anno, un'occasione per illustrare le attività e le iniziative dell'Assise regionale del 2023. Dialogo, interesse per il territorio e i cittadini, valorizzazione dei giovani, cultura, formazione, diritti, doveri, legalità, sono le parole chiave che hanno contraddistinto l'agire istituzionale in tutto il 2023. Il presidente Cicala, nel salutare i giornalisti, ha espresso parole di ringraziamento per l'attenzione costante verso l'attività istituzionale e ha portato gli auguri, per l'anno che verrà, da parte di tutto il Consiglio regionale. È un anno importante, devo dire da subito che il bilancio a mio avviso è molto positivo, quello che è stato un lavoro comunque difficile, non lo nascondo, legato soprattutto al numero esiguo dei consiglieri, però ciò non ci ha impedito di portare dei grandi risultati e di questo devo ringraziare i consiglieri per il loro senso di responsabilità e il buon senso applicato. Ovviamente molto resta da fare, tanto altro ancora c'è da migliorare, ma con la buona volontà e con la voglia che contraddistingue ogni consigliere sono sicuro che anche in questo scorcio di fine legislatura riusciremo a portare ancora tanti buoni eventi, atti, proposte di legge. In effetti l'attività legislativa è stata importante, il vero cuore pulsante dell'attività legislativa del Consiglio regionale ha lavorato alacremente, sono state oltre 200 gli atti assegnati e altrettanti licenziati, le audizioni superano addirittura le 300. A questo si è giunta un'attività importante legata a quella che è il sostegno alla cultura e soprattutto un sostegno alle nuove generazioni, l'abbiamo fatto mettendo in campo numerosissime iniziative come ad esempio il nostro progetto del Consiglio regionale di cittadinanza attiva riguardante appunto un progetto importante di cui siamo molto orgogliosi che si chiama Next Generation Costruttori di Futuro. L'augurio che si possa sempre più mantenere alta l'attenzione sui temi importanti quali appunto la legalità, la parità di genere, tutte attività che sono state messe in campo ancora una volta dal Consiglio, molte di queste attraverso proprio gli organi di rappresentanza e sono orgoglioso di poter affermare che sia il difensore civico, sia il Corecom, sia la CRPO, sia il Garante per l'infanzia hanno svolto un lavoro egregio, un lavoro importante sull'intero territorio regionale, sulle due province e che ha restituito ancora una volta un'immagine importante e positiva del nostro Consiglio regionale. L'auspicio quindi è quello che si possa in questo solco continuare a costruire.